Si scalda ed entra nel vivo la campagna elettorale a Roseto degli Abruzzi, a scatenare polemiche è stato il sondaggio commissionato alla Ipsos da Rosaria Ciancaione, rappresentante della collezione Amo Roseto, che la pone in vantaggio 60-34 rispetto ai principali avversari, primo fra tutti il sindaco uscente Ennio Pavone. Un sondaggio però che gli avversari hanno subito contestato, perché si baserebbe su una platea abbastanza ristretta, infatti sono state 598 le interviste su 3.744 contatti, il 16% realizzate mediante il sistema Cati tra il 18 e il 22 di aprile del 2016. I dati diffusi dalla Ciancaione dicono che il 62% dei cittadini di Roseto è convinto che la città nel suo complesso stia andando nella direzione sbagliata e per il 66% dei rosetani il giudizio è negativo sull'amministrazione comunale uscente. La gente di Roseto, quindi il popolo di Roseto e i cittadini di Roseto vogliono cambiare completamente il modo di governare e questo risultato a me fa molto piacere soprattutto perché effettivamente è il mio cavallo di battaglia, nel senso io credo che in un'amministrazione profondamente rinnovata, profondamente rinnovata perché credo in un'amministrazione che stia in mezzo alla gente, un'amministrazione che tocchi con mano i problemi e che non stia diciamo e non faccia calare dall'alto soprattutto le decisioni. Siamo convinti che il profilo di Rosario sia un profilo di qualità con un progetto e dei candidati nelle liste di qualità, noi siamo l'unica coalizione che ha tutti i candidati nuovi, nessuno mai di loro è stato in consiglio comunale. Dal canto suo il sindaco Ennio Pavone ha chiuso la lista dei liberal socialisti, 16 i nomi che lo affiancheranno nella corsa alla conquista del secondo mandato tra cui l'attuale vice sindaco e il presidente del consiglio comunale. Noi ci riproponiamo con una coalizione coesa, compatta che è quella che ha vinto le elezioni nel 2011, avremo sei liste che compongono questa coalizione che poi tra l'altro è l'unica vera coalizione in campo in questa campagna elettorale qui a Roseto degli Abruzzi, abbiamo messo insieme le migliori energie di queste, quelle che sono due liste civiche sostanzialmente uno che rappresenta la tradizione socialista molto forte in questa città e che ha sempre rappresentato un punto di riferimento a Roseto degli Abruzzi e l'altra che abbiamo realizzato cinque anni fa e che oggi abbiamo messo insieme queste due realtà per avere una lista secondo noi molto forte che racchiude tante personalità già esperti, giovani, attuali amministratori.